Presentato a Prato l'anno accademico dell'Università del Tempo Libero e l'Anno Monarca. 50 appuntamenti fra gennaio e novembre per parlare di storia, arte e musica. Il programma prenderà il via martedì 10 gennaio con la lezione inaugurale tenuta da Massimiliano Civica, regista e direttore artistico del Teatro Metastasio, dedicata al valore etico del ridere e si concluderà il 30 maggio per poi riprendere il 3 ottobre e terminare il 24 di novembre. Gli associati sono circa 150, alcuni anche da fuori Toscana. I più anziani, ma anche i più curiosi, sono gli ultranovantenni. Quest'anno abbiamo voluto affrontare gli Stati Uniti che da colonia sono diventate la nazione dominante del Novecento e quindi lo affronteremo chiaramente dal punto di vista culturale. Poi ci saranno alcuni cicli che sono storici, quello sul viaggio, e un'altra novità di quest'anno è quella sul riso. Tratteremo questa problematica dal punto di vista della comicità, del teatro comico e della satira. I corsi, che sono a cura dell'Associazione Culturale e Linguaggi per Corsi nelle Culture, si svolgeranno nell'Aula Magna del Polo Universitario Città di Prato, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18, e vedono la collaborazione dello SPICIGL e del Comune di Prato. L'Università del Tempo Liberale di Anna Monarca anche quest'anno svolge il suo compito fondamentale di educazione permanente agli adulti e non soltanto agli adulti, attraverso un ciclo di incontri di oltre 50 incontri. 15 di questi sono quelli fatti in collaborazione con il Comune, sono aperti a tutti.